Il mattino la nostra fascia quotidiana mattutina di approfondimento, di incontri, di collegamenti e ovviamente anche di commenti sui fatti di attualità. Siamo collegati in questo momento dalla Camera dei Deputati, in corso di svolgimento una discussione sul primo decreto che è stato approvato, che verrà convertito in legge in queste ore sull'emergenza sanitaria. Ci sono diversi emendamenti anche che sono stati accolti, Tagliaviva si è battuta ad esempio sulla centralità del Parlamento nel momento in cui vengono adottati i DPCM, i decreti del Presidente del Consiglio, tema sollevato anche da Matteo Renzi la scorsa settimana e abbiamo ottenuto l'impegno solenne che è il vincolo a coinvolgere il Parlamento prima dell'emanazione del DPCM, così come siamo riusciti a ottenere anche la possibilità di anticipare le riaperture per la celebrazione dei riti religiosi, quindi non solo per quelli cristiani ma anche per tutte le confessioni religiose. Ma torneremo a parlare anche di questo, così come parleremo anche degli altri provvedimenti che sono in discussione in questa fase in Parlamento, a partire dal decreto liquidità sul quale stiamo preparando varie proposte per sostenere le imprese, ma come sapete questa mattina il nostro ospite d'eccezione è la Ministra per le politiche agricole Teresa Bellanova. Teresa sei in linea? Sì, salve, buongiorno a tutti. Buongiorno Teresa, grazie per essere collegata qui con noi, ti vediamo nel tuo ufficio al Ministero dove peraltro sei sempre stata durante questa fase di emergenza e ci fa molto piacere. Non possiamo però partire Teresa a questo proposito dal fatto che questa mattina abbiamo letto e sentito tue dichiarazioni piuttosto forti, sappiamo della tua proposta di regolarizzare i lavoratori stranieri che sono impegnati nei campi, una proposta che non trova al momento, non ha trovato il favore di tutta la maggioranza, di tutto il governo, sei arrivata a mettere sul piatto anche il tuo ruolo e quella poltrona sulla quale attualmente sei seduta dicendo che se non si riesce a sbloccare questa situazione valuterai anche la possibilità di lasciare l'incarico. Raccontaci qualcosa di più perché ovviamente è una notizia che ha accolto tutte le amiche, gli amici e coloro che ci seguono in Italia Viva con grande stupore, con grande sorpresa ma anche confermando la tenacia, la determinazione che tu metti nelle tue battaglie. Raccontaci cosa sta succedendo Teresa. Quando si fa parte del governo si ha un grande onore e anche una grande responsabilità. Le nostre azioni decidono anche la qualità della vita degli altri e allora dire che si valuta sulla permanenza nel governo significa dire che diamo un contributo, io lavoro con grande intensità e compassione, senza limiti di tempo, ma questo lo faccio se è funzionale a risolvere i problemi. Noi abbiamo delle contraddizioni in Italia che per lungo tempo non si sono voluti affrontare. In questa fase di emergenza sanitaria queste contraddizioni diventano ancora più evidenti perché da una parte noi abbiamo chiuso in casa 60 milioni di italiani dicendo che non dovevano avere contatti con altri, doveva avere il distanziamento sociale, i dispositivi di sicurezza per non incrementare la diffusione del virus e dall'altro abbiamo migliaia, forse centinaia di migliaia di persone che sono rinchiuse nei ghetti in condizioni disumane, altre centinaia di migliaia che sono nelle nostre famiglie ad accudire i nostri cari a partire dalle persone anziane che non avendo un permesso di soggiorno non hanno acceduto alla profilassi sanitaria. E allora noi di questo dobbiamo farci carico perché queste persone rischiano di essere un problema per se stessi e rischiano di essere un problema anche per i cittadini italiani nel momento in cui c'è un contatto e quindi la diffusione del contagio. E questo è un problema del quale i governanti devono farsi carico. Dall'altra noi avremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, una emergenza nelle nostre campagne che è quella di mancanza di mano d'opera per la raccolta dei prodotti. O noi diamo a queste persone la possibilità di lavorare attraverso un permesso di soggiorno stagionale per sei mesi, la possibilità di andare a lavorare in modo legale o ci sono due ipotesi. Uno che gli imprenditori, quelli che non vogliono fare ricorso al caporalato, alla criminalità, lasciano marcire i prodotti nei campi. L'altro è che la criminalità ricontinua ad utilizzare la vita di queste persone e anche a ricattare le imprese. Proprio oggi sono stati scoperti in Veneto, a Treviso, lavoratori immigrati senza permesso di soggiorno che lavoravano nei campi con poche decine di euro al giorno, lavoravano per 12 ore ed erano stipati in sottoscala senza luce e senza accesso all'acqua. Noi queste condizioni non possiamo continuare a tollerarle. Non regolarizzare queste persone significa essere i protagonisti principali della diffusione dell'illegalità, della concorrenza sleale e dell'alimentazione del caporalato. Allora, un governo non può non risolvere questa contraddizione. Se non risolve questa contraddizione è evidente che persone come me non sono utili nella loro funzione. Parole molto forti, Teresa, le tue, ma parole anche che si sposano, devo dire, con quello che abbiamo sentito proprio poco fa, abbiamo letto proprio poco fa nelle parole del Santo Padre, perché Papa Francesco ha parlato proprio pochissimi minuti fa dicendo ho ricevuto diversi messaggi riferiti al mondo del lavoro e ai suoi problemi. In particolare mi ha colpito, ascoltate bene, quello dei braccianti agricoli, tra cui molti immigrati che lavorano nelle campagne italiane, purtroppo tante volte vengono duramente sfruttati. Ecco, credo che questo messaggio del Santo Padre vada assolutamente tenuto presente, perché non è un problema che Italia Viva pone e che Teresa Bellanova come Ministra dell'Agricoltura pone per motivi ideologici, ma per una questione di legalità, che Teresa, permettimi di dirlo, proviene anche dalla tua storia, dalla tua esperienza personale e tu sai che cosa significhi trovarsi in queste condizioni, lo hai vissuto ed è tutta la vita, tutta la tua vita politica che è stata ispirata a contrastare questi fenomeni e non possiamo permettere oggi che siamo in ruoli diversi di dimenticarci anche le nostre radici. Appunto, noi apparteniamo a quella categoria di persone che parlano lo stesso linguaggio a prescindere dalle funzioni che svolgono, perché altrimenti si è poco credibili e questo spesso ha delegittimato anche la politica e le funzioni istituzionali. Noi dobbiamo sapere che mantenere un bacino di lavoro illegale, mantenere le persone nei ghetti senza la possibilità di essere assunti in modo regolare indebolisce anche i cittadini italiani, perché più c'è la possibilità di fare ricorso al lavoro illegale, al lavoro non tutelato, più le imprese che non vogliono competere nella legalità hanno possibilità di ricattare i lavoratori italiani, più i caporali possono estromettere i lavoratori italiani o obbligarli a lavorare a condizioni disumane. Allora, noi su questo, la battaglia che facciamo è una battaglia per la legalità per i cittadini italiani e per i cittadini stranieri, una battaglia per la competizione leale, perché le imprese che non ricorrono alla mafia, al caporalato, che non ricorrono alla illegalità, sono imprese che rischiano di essere mandate fuori mercato. Noi invece dobbiamo sostenere, soprattutto in questa fase, quelle imprese che hanno affrontato l'emergenza sanitaria, il contrasto al virus, con coraggio e determinazione. Sono quelli che hanno chiamato i loro lavoratori e li hanno invitati a lavorare per cercare di alimentare la catena della filiera alimentare, e permettere a tutti noi di non cambiare le nostre abitudini alimentari, di avere spazi di normalità nella nostra vita. Di questo ce ne dobbiamo ricordare sempre. E allora io dico, invece di pensare solo al consenso, a distribuire risorse in modo assistenziale, noi dobbiamo risolvere le contraddizioni anche quando queste si portano appresso una parte di polemica, ma affrontare il tema della legalità non è necessariamente un tema che ti porta consenso. Se dici che devono essere regolarizzati i lavoratori stranieri con un permesso di soggiorno temporaneo di sei mesi, se in questi sei mesi questi lavoratori, questi cittadini non vanno a lavorare, potrai non rinnovarli il permesso per altri sei mesi, fare questo non ti comporta voti, perché queste non sono persone che voteranno. Ma io credo che questa è una battaglia di civiltà e anche di legalità ed è una battaglia per la concorrenza sleale anche nel tessuto economico. E noi non possiamo non fare questa battaglia. Teresa, l'obiezione più ricorrente a questa proposta è quella che attiene, soprattutto viene anche da versanti della destra, ma non solo. Allora se c'è questo problema di mano d'opera, utilizziamo i percettori del reddito di cittadinanza, cioè mettiamo coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza nelle condizioni di essere, mi immagino che qualcuno ritenga che si possano obbligare queste persone a fare i lavori nei campi. A parte il fatto che non si può obbligare nessuno a svolgere un'attività, almeno finché siamo in uno stato democratico e liberale. ma cosa possiamo rispondere a questa obiezione, che comunque ha un suo fondamento, nel senso che almeno mettere nelle condizioni chi percepisce il reddito di cittadinanza di poter essere tenuto in considerazione per svolgere questa attività, non sarebbe sbagliato. Però se non sbaglio ci sono dei problemi che impediscono di dare questa risposta alternativa a quella che tu proponi. Guarda Marco, intanto in uno stato di diritto le persone scelgono il lavoro che vogliono fare e io voglio pensare che noi continuiamo a investire nel valore lavoro e a dire ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze studiate e noi dobbiamo lavorare per darvi l'opportunità di andare a fare il lavoro che voi desiderate fare. Per fare questo c'è bisogno di avere un'idea di sistema paese, di avere politiche industriali, di investire nella ricerca piuttosto che sperperare risorse per dire alle persone state a casa e non si fa niente altro per cercare di farvi uscire dalla situazione di sofferenza, di disagio e di disoccupazione. Insieme a questo noi dobbiamo essere molto chiari. I cittadini italiani possono andare a lavorare in campagna quando vogliono, ma nessuno può fare un decreto per obbligare le persone ad andare a lavorare in campagna o in un altro settore. Quello che io sto facendo è quello di dire siccome questa non deve diventare una battaglia ideologica di contrapposizione, io personalmente ho contrastato il reddito di cittadinanza quando stavo all'opposizione e continuo a pensare le stesse cose adesso come fa Italia Viva. Ma siccome non voglio ideologizzare questo scontro, non dico che chi non accetta un lavoro deve essere privato del reddito di cittadinanza. Ho detto alla ministra Catalfo adotta, prendi una norma che permette alle persone di avere il reddito di cittadinanza e di poter cumulare anche il lavoro in campagna. Quelli che prendono l'indenità di disoccupazione e di poter cumulare anche con il lavoro in campagna. Quindi immagini quanto c'è disponibilità a dire facciamo entrare queste persone, mettiamole in condizione di acquisire anche questa professionalità. Ma se le persone non vanno e io tra una settimana ho le associazioni agricole, le imprese che mi dicono ci mancano tra 270 e 350 mila lavoratori per non lasciare marcire i prodotti nei campi, io la risposta la devo dare adesso. O in questo decreto si mette la norma che si possono avviare i permessi di soggiorno semestrali e dare alle persone la possibilità immediatamente di poter fare magari il lavoro che hanno fatto negli anni passati e che hanno fatto in nero o altrimenti si fallisce l'obiettivo. Ma fallire l'obiettivo di dare la risposta a quello che è l'esigenza delle imprese in questo momento significa rendersi responsabile dello spreco perché i prodotti che non vengono raccolti sono prodotti che da una parte determineranno un'impennata dei prezzi che pagheranno i consumatori e le consumatrici italiane e dall'altro priveremo quelle persone che attraverso la filiera degli enti caritatevoli potevano accedere al cibo perché veniva veicolato anche attraverso i fondi che il mio ministero ha potuto gestire. Far distruggere i prodotti significa privare i poveri di avere un pasto. Magari gli darai il sussidio per due mesi ma fra tre mesi, fra quattro mesi, fra cinque mesi queste persone continueranno ad avere una situazione di povertà e lo Stato non avrà la possibilità di fargli mettere almeno un pasto caldo a tavola. Chiarissimo, chiarissimo Teresa aggiungo un'ulteriore domanda abbiamo ancora 5-6 minuti a nostra disposizione Teresa, un'ulteriore domanda te la voglio fare a proposito della grande discussione che c'è su questo decreto anche su altri temi in generale su due visioni differenti da una parte le politiche di sviluppo che devono essere messe in campo e dall'altra parte una visione invece che dice dobbiamo semplicemente limitarci a dare assistenza dare assistenzialismo ovviamente nessuno mette in discussione come tu ricordavi la necessità di dare assistenza concreta ma noi dobbiamo mettere le persone nelle condizioni di ripartire di tornare a investire di tornare a spendere quindi di tornare a lavorare di avere un lavoro di avere nuova occupazione di sbloccare gli investimenti al di là di questo tema su cui abbiamo parlato finora le altre direttrici che noi stiamo proponendo all'interno del decreto maggio quali sono Teresa? e soprattutto l'ispirazione delle nostre proposte mi pare vadano tutte in questa direzione su cosa a tuo avviso bisogna puntare e poi in chiusura ti chiederò qualcosa invece sulle riaperture noi ci stiamo impegnando da un lato per contrastare quest'idea della decrescita felice perché la decrescita felice è per quelli che hanno la pancia piena perché per gli altri la decrescita è infelice se noi non facciamo ripartire la nostra economia se noi non investiamo per sostenere le imprese che devono riprendere a produrre a produrre prodotti di qualità se noi non investiamo sulla filiera dell'alta gamma in Italia noi soccombiamo noi in questi mesi abbiamo perso pezzi di produzione perché mentre altri paesi avevano tenuto aperte le filiere produttive noi abbiamo chiuso alcune lavorazioni si sono spostate all'estero altri anche la Germania che teneva aperti i suoi punti produttivi e che magari aveva in Italia una filiera della sub fornitura di qualità ha orientato verso altri paesi la sua ricerca di prodotto e noi questi mercati questi pezzi di produzione dobbiamo andarceli a riprendere rapidamente così come dobbiamo sapere che l'Italia compete non sui bassi costi compete se investe sull'innovazione e sulla ricerca non sull'assistenzialismo perché i ragazzi e le ragazze italiane troveranno un'opportunità di lavoro se noi saremo in grado di mettere le imprese nella condizione di competere e di avere quei prodotti che incrociano il gusto dei consumatori che possono permettersi il costo del Made in Italy allora qualità innovazione ricerca sostegno alle imprese se noi non facciamo queste quattro cose e distribuiamo solo sostegno al reddito che è importante ma è importante per una fase transitoria queste persone devono avere la possibilità di ritornare a lavorare e chi il lavoro non l'ha mai avuto di poter avere un posto di lavoro questa è la sfida che abbiamo davanti se scegliamo le scorciatoie semplicemente noi andiamo contro il futuro le risorse che stiamo investendo sono risorse che stiamo prendendo dalle nuove generazioni da te da quelli come mio figlio dai tanti ragazzi e tante ragazze che stanno in Italia che credono in questo paese e che vogliono avere un'opportunità di lavoro se quelle risorse le sprechiamo per tenere le persone chiuse a casa se quelle risorse le sprechiamo per distribuire assistenzialismo e non per rafforzare il sistema produttivo noi semplicemente neghiamo il futuro alle nuove generazioni e questo Italia Viva non lo vuole e non vuole permetterlo verissimo Teresa e a questo proposito e ci abbiamo alla conclusione è molto importante tenere in considerazione anche la possibilità di anticipare alcune la riapertura di alcune attività perché ci sono tanti lavori e tanti lavoratori autonomi soprattutto donne che in questo momento sarebbero nelle condizioni di riaprire garantendo il rispetto di tutte le norme di sicurezza di tutte le disposizioni che sono state adottate in alcuni casi ancora devono essere individuati i protocolli quindi chiediamo intanto che ci sia certezza e chiarezza su come dovranno riaprire le attività però almeno si mettono nelle condizioni coloro che sono in grado di farlo prima di poter riaprire e soprattutto tra l'altro Teresa in molti casi sono anche lavori che riguardano il mondo femminile che riguardano le donne perché se pensiamo tutto il settore delle parrucchiere tutta la filiera del benessere quindi parrucchiere estetiste sono tantissime donne che hanno bisogno di lavorare che sarebbero nelle condizioni di tornare al lavoro ma che non possono ripartire ora io credo che il grande buonsenso col quale gli italiani hanno affrontato questa fase meriti più fiducia forse e si provi con un po' più di coraggio a mettere nelle condizioni delle attività che possono di riaprire prima che cosa ne pensi al riguardo? Sì che bisogna avere più fiducia negli italiani perché gli italiani ci hanno stupiti in questa fase di emergenza io ho sentito dire da tanti ma non immaginavo che avrebbero seguito così attentamente scrupolosamente quello che è stato consigliato anche dalla comunità scientifica e sulla base della quale spesso il governo ha agito allora noi dobbiamo avere un approccio molto concreto è quello che abbiamo avuto anche negli incontri fatti di maggioranza nelle riunioni di governo se riapri la filiera produttiva devi sapere che devi riaprire anche la filiera commerciale perché se apri un'azienda che confeziona pantaloni se apri un'azienda che produce un prodotto devi sapere che poi devi aprire i negozi che vendono quei prodotti perché in Italia sono decenni che grazie alle rivoluzioni industriali non si produce per il magazzino e che produrre per tenere in magazzino significa incrementare ulteriormente i costi allora se riapri la filiera produttiva devi aprire la filiera distributiva e quindi questo bisogna accelerare così come io credo anche su quelle che definisco le professioni artigianali creative noi queste persone dobbiamo metterle in condizione di produrre perché non sono 600 800 1000 euro al mese che possono mettere al riparo perché lì c'è l'impegno l'ingegno la capacità la voglia di fare e ci sono anche altre persone che lavorano in questi laboratori e ci sono servizi dei quali i cittadini hanno bisogno allora abbiamo avuto due mesi di tempo per attrezzare i protocolli per attrezzare e per dotare le strutture dei dispositivi di sicurezza adesso dobbiamo dire alle persone che rispettando ovviamente scrupolosamente quello che la comunità scientifica consiglia però non dobbiamo adagiarci e continuare a pensare che le persone possono stare a casa e che a un certo momento questo paese riparte questo paese più sta fermo e più è difficile la ripresa e più si mette in discussione il futuro delle nuove generazioni allora su questo noi non abbiamo alcun tentennamento assumendoci la responsabilità di dire cose che in alcuni momenti possono sembrare anche scomode però quando si governa non si può pattinare sui tappeti quando si governa si ha il dovere di avere il coraggio dell'assunzione della responsabilità chi governa sceglie perché altrimenti ha seconda e in quel caso fa tappezzeria e non è proprio il nostro caso non vogliamo né scivolare né pattinare sui tappeti né fare tappezzeria Teresa quindi assolutamente siamo con te in questa battaglia una battaglia di legalità una battaglia per il futuro del paese è una battaglia che non dimentichiamolo quella sulla regolarizzazione dei lavoratori stranieri che riguarda e qui veramente vado in chiusura anche la garanzia degli approvvigionamenti alimentari per le persone perché poi non dimentichiamo che se va in difficoltà il settore primario il settore dell'agroalimentare rischiano di andare in difficoltà tanti altri aspetti della vita quotidiana chiuderei su questo Teresa per far capire alle persone che stiamo parlando di un problema più grande del pur grande problema di legalizzare il lavoro di renderlo soprattutto disponibile agli operatori agricoli ma soprattutto stiamo parlando di un problema che si intreccia anche con la vita quotidiana di tutte le persone non solo di quei lavoratori assolutamente sì perché se non si raccolgono i prodotti come dicevo prima si hanno due ricadute una che aumentano i prezzi perché meno è il prodotto che arriva nei mercati nei supermercati nei negozi e più c'è il rischio di un'impennata dei costi ovviamente e due se non si raccolgono i prodotti noi troveremo meno possibilità di andare a fare la spesa e di continuare ad avere una alimentazione come quella che abbiamo avuto prima siccome questo sforzo lo abbiamo fatto in questi due mesi quando abbiamo chiesto io personalmente ho chiesto a tutte le associazioni che voglio ringraziare tutte le imprese agricole le imprese della trasformazione alimentare e quelle della distribuzione ho chiesto loro di non fermarsi un attimo per continuare a dare la possibilità ai cittadini italiani di avere un normale accesso al cibo com'è doveroso fare loro hanno corrisposto hanno sfidato la paura perché mentre gli altri stavano fermi a loro abbiamo chiesto di lavorare lo hanno fatto sapendo che rischiavano più di quelli che stavano a casa adesso noi non possiamo per incapacità per incoerenza per battaglie strumentali non porci questo problema continuare ad alimentare i negozi i supermercati i mercati dei prodotti freschi dei prodotti dalla pesca al vino dalla frutta alla verdura è un nostro dovere e io lo avverto come un assillo al quale non posso venire meno Teresa grazie grazie per queste parole per questa determinazione per essere stata ospite di iv live mattino torneremo presto a disturbarti e continuiamo a sostenerti su questa battaglia che è una battaglia di legalità di giustizia e soprattutto per il presente e il futuro del nostro paese Teresa grazie per essere stata con noi e ringraziamo anche le tantissime persone che ci hanno seguiti l'appuntamento con iv live oggi pomeriggio alle 14.30 con Iva Scalfarotto e poi le dirette dal Parlamento Teresa grazie buona giornata a te e a tutte le persone ripeto che ci hanno seguito a prestissimo grazie grazie a tutti a presto grazie a tutti